Ma di che? Ma le macchine sono le mie, no? Aaaaah! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me! La gente che lavora, che sta accanto a me!